Sì, buongiorno a tutti, sarò velocissimo. Come vedete ho intitolato questo intervento perché la storia del grifone tempestosa è più importante dei dati di accesso al sito web. Questo perché noi a fine progetto stiamo contando dal punto di vista numerico secondo gli indicatori che ci sono stati chiesti dall'Unione Europea che sono indicatori importanti ovviamente su alcuni impatti però che non ci consentono di verificare fino in fondo quanto davvero certi messaggi siano passati e siano cambiati soprattutto dei comportamenti. Questo perché in comunicazione non è possibile, dovremmo fare un sondaggio alla settimana come minimo che ha dei costi improponibili per chiunque. Quindi mi piacerebbe di più usare questi tre minuti per raccontarvi la filosofia che ha animato la nostra comunicazione. I dati e i risultati che vi faccio vedere velocemente ve li potete guardare con calma sul sito del progetto dove abbiamo caricato il Lyman Project con tutti questi dati sugli impatti. Noi siamo partiti da un presupposto che qualsiasi esperienza umana, che sia la vita di una persona piuttosto che un progetto ma tante altre sopravvive se sopravvive la sua storia. Questa è una regola che l'uomo conosce fin dall'antichità, dall'inizio. Ogni comunità umana per far passare i propri valori, per educare la comunità, per rappresentare la realtà ha sempre avuto bisogno di raccontare storie. Dalla guerra di Troia ad Amedeva in poi sono le storie che formano l'identità di un popolo. Sono le storie che rimangono più che magari le singole regole eccetera. Noi abbiamo deciso di fare divulgazione scientifica costruendo storie perché il nostro obiettivo, ci siamo detti, il progetto sopravvive se sopravviveranno le storie che abbiamo raccontato in questi anni più che se si conoscono i singoli dati che pure stiamo presentando e che sono ovviamente quelli fondamentali. Siamo partiti quindi da un primo ragionamento e ci siamo chiesti prima di noi chi aveva raccontato il grifone, chi aveva curato la narrazione del grifone in Sardegna. Questo perché non volevamo creare qualcosa di nuovo ma volevamo semplicemente inserirci, cavalcare quello che era già esistente e valorizzare quella che era la narrazione già esistente. E quindi molto semplicemente abbiamo visto che esistevano due grandi narrazioni. La narrazione di quella che abbiamo chiamato la scuola Schenk. Cioè tutto il gruppo di ornitologi, esperti, volontari che sono cresciuti con l'esempio scientifico e tecnico con la scuola di Schenk è che lo stanno portando avanti e sono davvero tanti e sono stati fondamentali in tutti gli aspetti di questo progetto. L'altra grande narrazione che aveva un taglio più divulgativo è quella avviata da Domenico Ruiu con Caro Grifone eccetera che ha fatto conoscere il grifone al grande pubblico in Sardegna. Ora noi abbiamo preso queste due narrazioni e le abbiamo usate come punto di riferimento perché sono narrazioni autonome che andranno avanti anche senza di noi. La banda di Schenk fortunatamente continua e continuerà. Domenico Ruiu continua a costruire le capanni ed è anche il mentore di un nuovo gruppo, di una nuova generazione di fotografi naturalistiche che sta seguendo le sue orme. Noi ci siamo inseriti, l'abbiamo cavalcato perché ritenevamo che fosse già importante questo. E abbiamo raccontato le nostre storie che sono queste. Le prime storie abbiamo dato un nome ai grifoni perché piuttosto che dare una solita sigla che è impersonale dando un nome, creando il personaggio sarebbe stato più facile poi costruire una storia. Non a caso il primo grifone che abbiamo lanciato è stato Elmar un aggancio esplicito appunto alla grande narrazione di cui vi ho parlato prima. Anche se i più famosi poi sono diventati Tempestosa che è stato il primo che ha viaggiato in giro che si è allontanato e che è diventato star sui social. Ci arrivavano segnalazioni dappertutto sui movimenti di Tempestosa man mano che li stavamo mappando. Purtroppo è una storia che ha avuto un finale triste che non abbiamo potuto raccontare perché c'è stata un'indagine in corso. Però meriterà di essere raccontata bene anche questa. Abbiamo avuto Quada che ha girato tantissimo che probabilmente stava cercando un partner e anche qui ci ha consentito di addirittura uscire più volte sui giornali. Ma abbiamo raccontato anche le storie di chi cura degli uomini del grifone, del centro di Bonassai che da decenni ha tirato su una cultura di cura, di sostegno ai grifoni in difficoltà. I grifoni provenienti dallo zoo di Artis che avevano alle spalle una storia anche loro molto curiosa e forte. Abbiamo raccontato poi le esperienze del nucleo cinofilo antiveleno, i cani, i loro formatori, i successi ottenuti dal nucleo con due allevatori rinviati a giudizio e tante altre indagini portate avanti. Tutte storie che hanno avuto un seguito. Il mondo degli allevatori l'abbiamo raccontato moltissimo in positivo perché senza il sostegno, la condizione, il trasporto personale, gli allevatori non sarebbe stato possibile. Anche questo l'abbiamo voluto raccontare, così come tante altre storie. E noi speriamo che queste storie rimangano. In realtà, e qua chiudo, come vorrei personalmente che fra cinque anni venisse raccontato questo progetto. Per me valgono tutte le foto che stiamo proiettando. Cioè l'idea che per la prima volta comunque intorno al grifone tutti coloro che a diverso titolo lavoravano, producevano, si impegnavano a volte anche con visioni molto opposte e quasi conflittuali però non lavoravano tutti quanti insieme. E vorrei che la storia che si raccontasse è proprio questa. Cioè quella volta che tutti insieme ci siamo ritrovati intorno a un obiettivo e siamo riusciti a raggiungere un risultato. Grazie.